Al Pietro Desideri va in scena lo scontro tra Fiumicino e Morandi valido per la 28esima giornata di promozione Girone C. Da una parte il Fiumicino sempre più lanciato in campionato in corsa anche in Coppa Italia, dall'altra il Morandi stabile in alta classifica e alla ricerca di un possibile colpaccio per sognare sempre più in grande. Subito tentativo dello sublu di casa con questa punizione dalla grande distanza che non impensierisce Verdecchia. Ci prova poi Facchini che supera l'avversario e cerca il destro giro che finisce di poco al lato. Il numero 8 degli ospiti è una scheggia impazzita sulla fascia, buon pallone al centro ma Formisano prima e Sargolini poi non riescono a ribadire a rete. Gli aeroportuali rispondono ad un'azione prolungata da destra a sinistra passando per il Bell attraversone che libera l'inserimento del sempre pericoloso Munaretto con Verdecchia che si fa trovare prontissimo nell'occasione. Sul finale di tempo grossissima opportunità per il Morandi con Capodacqua che serve una palla d'oro al centro e Formisano che non arriva per centimetri all'appuntamento con il pallone. Sul ribaltamento di fronte invece c'è il solito Forcina che da bomber vero si fa trovare pronto sulla palla in profondità di Munaretto e batte il portiere con un bel destro. Ennesimo centro per uno dei migliori attaccanti della categoria finisce il primo tempo con il gol e al via con la ripresa. Il secondo tempo scorre senza particolari emozioni all'insegna di un sostanziale equilibrio alla mezz'ora bella galoppata del solito Lombardi che fa tutto bene tranne il tiro in porta non irresistibile. Il Morandi prova a rimanere in partita fino alla fine creando anche un'ultima insidia con l'azione interrotta per un fallo in aria. Il fiumicino resiste porta a casa i tre punti la sconfitta del grifone catapulta e il gruppo di Lodi al primo posto una partita in meno in attesa dello scontro diretto del 3 aprile. Il campionato adesso è più aperto che mai.